Guarda qua sotto qua Noo boostati 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 Te l'ho hitato, ho hitato 91 Sto in flashback Ho hitato 91 Non c'è Non c'è Ok, una puletta di vita Come fa ad aver 5 kill lui Con 200 tp Ma io ho 0 kill 4 morti In franche te devo dire Salva munazzo No no vado 200 tp Salva munazzo Vai munaz Vai munaz Vai munaz Defusing now Ace Ma c'è un ace con 230 di qui Ahahahah